Buongiorno a tutti, io sono Maurizio di Talignum, con me c'è Nicola Buson di Falegnamria Buson di Vicenza e questa cosa è la prima puntata del nostro nuovo programma dedicato alla cucina. Per la cucina sì. No, ok, sì, vabbè diversificare, però magari non fino a questi livelli. Siamo in cucina, nello showroom di Talignum, perché vi parliamo di un prodotto che qui è stato utilizzato. Il solito video diviso in due parti, ci sarà una prima parte nella quale discuteremo del prodotto, possibilità di utilizzo dal punto di vista tecnico del materiale e poi ci mostrerai come l'hai utilizzato in una serie abbastanza interessante di applicazioni. Certo, qui c'è solo l'imbarazzo della scelta perché è un materiale che ti permette veramente un utilizzo più disparato. Bene, intanto abbiamo generato la curiosità, adesso manchiamo la sigla e dopo ne parliamo. Sigla! E parliamo di Betacryl, un solid surface che è composto da idrossido di alluminio, resine acriliche e pigmenti naturali che poi sono quelli che danno effettivamente il colore a questo tipo di materiale. Esatto. Noi principalmente diciamo lo conosciamo, comunque lo utilizziamo nella sua versione bianca, ma c'è la possibilità di averlo, come possiamo vedere da questo campione, anche in tinte diverse, tinte unite. e questo qui è un bianco ma nella versione Carrara, quindi in marmo, ti dà delle possibilità decorative abbastanza notevoli. Ok, questi pezzi di campione hanno delle attaccaglie, sostanzialmente abbiamo tolte dall'espositore, nello showroom facendoci anche piuttosto bua. Ma a di là di questo, questo pezzo ti mostra come ti arriva il prodotto. Il prodotto arriva in lastra. Sì. In lastra, vari spessori, dopodiché dalla lastra, che chiaramente va maneggiata, perché comunque è un prodotto solid surface, ha un po' le caratteristiche diciamo della piastrella, del minerale, e quindi bisogna chiaramente maneggiarlo con cura e lavorarlo con un'altra tanda cura, però una volta che sai come utilizzarlo ti dà diverse possibilità. Sì. Anche perché può darti, oltre al discorso chiaramente, delle possibilità, dei decori sostanzialmente diversi. Sì. Varie possibilità di utilizzo. Sì, sì. Cosa possiamo dire? Che è un prodotto comunque molto versatile. Certo. Diciamo che lo spessore più usato, più comune, è il 12 mm. Sì. Ma abbiamo anche uno spessore inferiore sui 6 mm, uno spessore superiore, importante, da 19 mm. Questo è un pannello che il falegname medio, tra virgolette, può lavorare tranquillamente in azienda, in quanto con l'utilizzo delle cosiddette lame, vidia o le frese, vidia, ancor più, perché effettivamente è un materiale che si presta moltissimo alla lavorazione con la fresa. E nel momento in cui vai a lavorarlo puoi fare sì incisioni, ed è naturalmente tutto monocolore, perciò anche una bella fresata in profondità, oppure comunque anche all'utilizzo di varie lavorazioni e varie incolazioni con le resine poi per l'applicazione in incollanza. Sì, come possiamo vedere poi dalle immagini che stanno passando adesso in sovraimpressione, si dice ancora così? Si dice ancora così. Ti dà appunto la possibilità, diciamo, essendo lavorato in profondità, di creare loghi, di creare comunque immagini o effetti che stanno un po' alla fantasia di chi progetta, di chi te la utilizza, scusa, di chi te li crea poi alla fine. Ci sono delle possibilità espressive, insomma, abbastanza infinite. Questo noi lo utilizziamo per esempio sia nelle abitazioni, il classico è il top della cucina, che può essere fatto comunque anche in le vasche, perché può essere anche termoformato e lì si apre un mondo. Può essere usato nell'area do bagno, sia per dei piatti dove c'è personalizzati, sia per i lavabi e sia per i rivestimenti personalizzati, ma lo utilizziamo molte volte anche per fare i banconi reception, sia degli alberghi, delle varie aziende o altro, perché con il vantaggio della resinatura e dell'incollaggio ti permette di fare superficie continue senza vedere la giunzione e la possibilità anche di termoformarlo ti permette di crearli delle forme molto particolari. Ricordiamo, aspetta, no, fermo, no, stai per spoilerare quella che sarà parte interessante del secondo video. Nel frattempo possiamo dire che oltre al prodotto in lastra c'è anche la possibilità di avere degli elementi, come dicevi tu prima, per il discorso di poterli inserire o dell'arredo bagno, per cui ci sono oltre alle vasche lavabi e lavelli che poi con le opportune lavorazioni ti danno la possibilità di creare un arredo unico. Insomma, qui vediamo appunto degli esempi, abbiamo delle vasche, abbiamo dei lavabi in appoggio creati con questo materiale. e secondo me è abbastanza interessante da dire e purtroppo d'attualità mettiamola così però comunque è sempre una caratteristica interessante sono prodotti antibatterici. Sì. Sono antibatterici proprio per le caratteristiche che hanno quindi le colle e l'idrossido di alluminio per cui vanno le superfici, diciamo, senza doverci mettere degli additivi o delle sostanze che vadano ad eliminare i germi già di per sé creano delle superfici che creano un ambiente ostile e quindi batteri e germi non regnano come avrebbe detto mia nonna e quindi antibatteri che effettivamente queste superfici tu pensi anche al vantaggio nelle varie dei bambini in casa l'importanza dell'igiene ma anche ancora più in questi due anni il fatto di avere delle superfici facili da pulire sì e poi in base al tipo di lavorazione che vai a creare in superficie con le varie grane abrasive lo puoi rendere molto opaco o anche lucido e fresandolo nella parte inferiore seppur alla vista ti sembra che non ci sia nulla nell'andare a inserire una fonte luminosa si possono creare dei loghi illuminati e hai veramente un prodotto molto interessante bene, grazie vi lasciamo con le ultime raccomandazioni se vi è piaciuto il video iscrivetevi al canale che per noi comunque è sempre molto importante cliccate sulla campanellina per restare aggiornati quando ci saranno dei nuovi video fateci sapere nei commenti che ne pensate di questo tipo di prodotto e anche se avete dei dubbi chiaramente siamo qui apposta per rispondervi vi lasciamo alla seconda parte del video nella quale mostreremo delle possibilità applicative di questo prodotto certo bene, al prossimo video il totem che è presente nel nostro showroom è stato realizzato dal gruppo GB di Campodarsego che ringraziamo perché ha fatto veramente un ottimo lavoro e ci dà la possibilità oltre a questi lavori a questa possibilità diciamo di fresatura utilizzo di mostrare anche quali effetti ti può dare il prodotto una volta che viene ribassato rispetto allo spessore standard qui ho messo la torcia del cellulare qui è ribassato a livelli diversi qui un po' di più qui un po' di meno posso garantire che si sente anche al tatto qua beh qua sono dietro dovrei arrivarci ecco qui grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti